primo agosto ore quattordici l'appuntamento era annunciato adesso è anche svelato facciamo una puntata vincolata a capire meglio davvero i conti della Juventus i conti dell'operazione del momento di cui tutti stanno parlando ovviamente partiremo a bomba col discorso Volaovic Lukaku non non perdiamo tempo oggi se non da parte mia per salutare e ringraziare Davide Burani che è qui di nuovo con noi ciao Davide ciao 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 a tutti ciao Luca ciao e alcuni dei nostri abbonati Twitch vi ricordo che abbonarvi a Twitch vuol dire poter seguire in diretta l'evento partecipare essendo abbonati anche alla discussione in chat la piattaforma Twitch è comunque aperta quindi venite su Twitch punto tv slash Juventus e seguite le nostre dirette anche se non siete abbonati ovviamente capirete che ci sono alcuni piccoli svantaggi a non esserlo ci sono tanti benefit voglio ringraziare anche coloro che su YouTube ovviamente mettete il mi piace mettete il cuoricino su Twitch mi piace su YouTube vi proporremo un come dire sempre un po' con degli spaccati oggi la divideremo in quasi in tre parti oserei dire quindi anche l'attualità ciao amici ciao a tutti mondo Twitch mondo YouTube Bino 91 Matt io sono un artolico che è venuto a trovarci ieri a 38 minuti il nostro toscanaccio di Arezzo era bello carico anche se insomma era un un pessimista ottimista un tipo strano eh devo dire cioè lui pessimista ma non non è mai carico è strano da dirsi in questi tempi perché siamo lì sempre schierati fiducia in Cristiano Giuntoli è lui l'uomo a cui si aggrappa eh io sono un artolico ma anche John Elkan che nell'intervista rilasciata alla stampa l'avete letto la scorsa settimana dieci giorni fa ha detto il nostro acquisto si chiama Cristiano Giuntoli e mettendo un bel peso sulle spalle ovviamente del responsabile dell'area football Juventus che adesso sta armeggiando cercando di 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 arrivare eh al dunque con eh diverse mosse già in questo primissimo mercato che affronterà e che sta affrontando dove arriverà come e perché ha senso ciò che sta pensando la Juventus su eh Lukaku e su Dujan Vlauvi c'è tutto il resto ne parliamo tra poco ho fatto questa intro di quattro minuti perché aspettavo arrivasse anche dall'oltre tomba Lorenzo è il nostro è tornato ciao Luca ciao a tutti ciao ciao Lorenzo ciao Davide piacere piacere mio lì sono le tre cinque tre di notte cinque presto sono e mattino e mattino e mattino e mattino sapete ma tanti conoscono Lorenzone è venuto tante volte insomma lui è d'assiato ovviamente lo ringraziamo per questa partecipazione oggi una puntata veramente speciale caro Lorenzo quindi preparati abbiamo anche Paul che è stato lì tra Siattolo e Los Angeles a suonare nello scorso mese grande Paul Audia grande ma non sono perso ma non sono perso non siamo perso è venuto lì apposta per te pace buongiorno a tutti buongiorno Raffaella la pubalgia di Vlaovic la celebre pubalgia di Vlaovic eh chissà se presto cambierà questo nickname oppure no tra poco lo scopriremo Red Smoke Salvatore Zenzio la Smilla Clark sono già attivi in chat io voglio ovviamente ringraziare coloro che stanno anche rinnovando l'abbonamento in questi minuti salutami Mombli me lo dice Giovanni noventicinque al quindicesimo mese insieme a questo canale senza pubblicità magari anche nel gruppo telegram venite ci siamo anche tanti di noi autori c'è anche Davide Burani eh che ogni tanto spunta con qualche perla di saggezza eh ho qualche precisazione contabile Jack 239 Sergentibus 33 mesi William Travelloni ma il secondo mese per Massel of Puppets e per Sberlik no Sberlik 23 mesi ma cosa dico tre mesi per diri ringrazio Alex ok direi che dopo aver fatto tutti i ringraziamenti io posso chiuder qui la puntata e lasciarmi almeno io non parlerò più per i prossimi venti minuti e lascio e lascio una prima considerazione ma molto più di facciata che di che di numeri sostanza davvero il senso nel conto economico e nel conto calcino statistico di un'eventuale operazione Valovic chiedo così di facciata come mi vi arriva questo questo eh ritorno diciamo al al futuro ritorno perché già un mese e mezzo fa il Chelsea aveva chiesto informazioni su Dusan Vlaovic facendo però ben presente la Juventus che la valutazione loro viaggiava tra i cinquanta e sessanta milioni questo aveva raffreddato tutto poi spunta Lukaku poi spunta la necessità punto interrogativo di entrambi i club di provare a sedersi a tavolino e vedere se si trova una quadra cosa pensate di dello stato dell'arte poi scendiamo anche sulle valutazioni contabili eccetera Davide eh Luca eh io l'avevo già detto in tutte le le live a cui ho partecipato alla fine ho iniziato a partecipare che questa voce che questa voce si affacciava e dopo tipo quasi due due mesi un mese e mezzo siamo ancora qua a parlare della stessa cosa io non lo trovo un affare vantaggioso né da un punto di vista calcistico né da un punto di vista economico finanziario per la Juve scambiare pur con un conguaglio un ventitrenne un classe duemila con un classe novantatré tra l'altro neanche così solido fisicamente non mi sembrano affare però non sono io che faccio le valutazioni tecniche e quelle economico finanziarie certo che qui magari mi permetto di lanciare la prima puntura non esiste attualmente un giocatore nel roster della Juve che sia in grado di sistemare con la sua cessione da solo il bilancio questo è un mito che a meno di offerte completamente pazze e questa non è un'offerta pazza è un qualcosa che non esiste sarà un lavoro lungo un lavoro difficile un lavoro complicato un lavoro di sofferenza però la Juve ha necessità di fare un'operazione di ristrutturazione del proprio roster di ristrutturazione dei propri conti e non sarà non sarà semplice però ci sono delle opportunità che possono essere colte per me Lukaku non è una di queste senti c'è anche una razio invece che riesce a cogliere cioè immedesimandoti nella nella Juve e quale può essere ma veramente flash un motivo invece di spinta positiva per andare a fare quest'operazione il coefficiente di pregnanza di Lukaku su un contesto come la Serie A per esempio sì quello ma è un miglior Lukaku come sempre sempre del miglior è uno però poi mi dice anche miglior Vlaovic però se gioca alla fine sono due giocatori abbastanza diversi sì però il mio è cioè noi adottiamo una pratica short termista con l'acquisto di Lukaku invece che sfruttare l'opportunità di avere l'anno fuori dalle coppe per pianificare i prossimi 3-4 anni questo che non capisco cioè un continuo loop in cui ogni anno puntualmente ci andiamo ad avviluppare girando sempre sugli stessi giocatori io personalmente quello che non capisco ma è un limite mio è come sia possibile che esista solamente Lukaku come centravanti tra l'altro valutandolo da quello che leggo 40 milioni quindi non 4 milioni perché se Lukaku fosse valutato 4 milioni forse potrebbero cambiare i termini nel discorso ma 40 milioni non sono pochi il Minan ha pagato Okafor una ventina Musa una ventina Ciukwese una ventina perché io devo e sono giocatori più giovani perché io devo andare a pagare Lukaku 40 milioni mi si dirà è un attaccante ok ma a 40 milioni ne trovi di più non dico di meglio ma di più futuribili che in questo momento è quello che serve a noi secondo me però il futuribile che hai in casa non ti accontenta attenzione attenzione c'è anche una posizione di Dusan Vlaovic che ho argomentato nelle precedenti live non voglio ogni volta tornarci sopra non sono delle dei pacchetti sono delle entità che hanno anche un pensiero una posizione insomma magari un mood che ti può invitare di più a fare un certo tipo di scelta piuttosto che un'altra prego Davide no io non dico che Vlaovic debba essere tenuto a tutti i costi ma un conto è vendere Vlaovic a 80-90 milioni cash un conto è vendere Vlaovic valutando l'80-90 milioni ma con un'operazione che di fatto diventa un 40-50 o quello che sarà più un giocatore che comunque avrà una sua valutazione a bilancio avrà dei suoi costi e che poi andremo a scontare nelle prossime stagioni perché abbiamo visto poi che queste operazioni fatte così se non funzionano hanno il piatto molto corto. Bene mi serve lo stesso tipo di fotografia ma in soggettiva eh Davide tra poco cercheremo di essere più oggettivi e di fare delle considerazioni cercheremo sempre di dividere quello che poi magari il pensiero personale o il vissuto immaginato nell'avere Lukaku nel non avere Vlaovic e capire quali effetti a bilancio abbiamo anche delle grafiche però così l'impatto è un po' che non condividiamo una live Lorenzo po' che non condividiamo un pensiero ci sono scambiati un messaggio per l'appuntamento di oggi quindi non so nulla delle tue riflessioni su questa eventuale eh combinazione e in generale anche individualmente se vuoi su Romelu Lukaku e su Dujan Vlaovic. a me non è entusiasma per niente questo tipo di di potenziale opzione di potenziale cambio eh non mi entusiasma perché ed è soggettiva la valutazione eh il tipo di calciatore che andiamo a prendere mi piace di meno rispetto al profilo di calciatore che Vlaovic ha dimostrato di di poter essere eh sulla questione anagrafica eh diciamo io sono d'accordo fino ad un certo punto nel senso che Lukaku non è un calciatore anziano non è un un fine carriera è un calciatore che sarebbe nel pieno della sua maturità però possiamo anche dire che noi ormai di Lukaku sappiamo tutto sappiamo fin dove può arrivare c'è da sperare se lo prendiamo che lui si riproponga nella sua versione migliore mentre di Vlaovic è esattamente l'opposto cioè l'età anagrafica di Vlaovic ci fa dire noi il miglior Vlaovic l'abbiamo visto a Sprazi ma questo è un calciatore che probabilmente può diventare ancora qualcos'altro può diventare molto meglio eh quindi al di là del tipo di attaccante a me piace molto di più un tipo di attaccante alla Vlaovic quando espresso rispetto al tipo di attaccante che è Lukaku c'è un discorso di di capire fin dove questi calciatori possono arrivare per me Vlaovic può ancora diventare un attaccante tra i migliori tre o quattro d'Europa con le sue caratteristiche che sono diverse rispetto a quelle in Bappé rispetto a quelle di Holland eccetera eccetera Lukaku ottimo calciatore buona carriera ma secondo me ha già ha già dato il massimo sappiamo che cosa può dare quindi personalmente dal punto di vista proprio strettamente di gusto mio è una cosa che non mi piace moltissimo poi possiamo fare una serie di valutazioni economiche non conosco assolutamente e tu no ti faccio la stessa la stessa coda di domanda che ho fatto a Davide allora al termine di questa considerazione cioè lo sforzo di immedesimarsi nei pensieri della Juve eh qual è la logica che trovi poi tra poco vi faccio vedere una grafica qui non si avremo più nel campo della soggettività e andremo a capire il possibile impatto e perché a questo punto magari dare un'ulteriore forza a l'idea che abbia senso farlo oppure al contrario però ti chiedo ti sei immedesimato in queste ore nella Juve e credi che il la logica sia quale guarda Luca come commento generale eh ho smesso da un paio di mesi di provare a immedesimarmi nella Juve perché dopo tutto quello che è successo diciamo nel finale di stagione eh è diventato controproducente cervellotico mi viene da pensare che la la contropartita anche economica sia importante e mi viene da pensare che in qualche modo Vlachovic sia inquieto quindi in qualche modo ci sia una pressione costante per trovare una sistemazione che a Vlachovic piaccia di più rispetto alla Juventus in questo momento e forse il Chelsea è una eh è un qualcosa che lo soddisfa mi viene anche da pensare che forse forse se si avvia una trattativa del genere la Juventus potrebbe trattare con il Chelsea un qualche altro tipo di profilo eh magari sempre in entrata per la Juventus a condizioni magari un po' più più vantaggiose però non saprei non saprei avrebbe senso Davide veloce veramente flash poi vediamo la grafica avrebbe senso assumerebbe un senso diverso nella tua considerazione se la Juventus facesse facendo questo questo accordo incrociato col Chelsea poi vediamo perché c'è anche la voce i due giocatori potrebbero andare in rispettivo prestito per poi avere un'acquisizione a titolo definitivo dopo un anno ma ha un controvalore diverso ovviamente perché c'è l'ammortamento dell'anno però a prescindere da questo se la Juve utilizzasse quel margine per prendere un giovane futuribile come dici tu eh allora allora la valutaresti diversamente Davide dici beh così allora scusami Blaovic in cambio di Lukaku più un giovane no ma non dal Chelsea magari altrove non per forza dal Chelsea magari altrove ma no nel senso che il problema non è quella emergente là e magari a 25 lo strappi non so se con le cifre però ci siamo e dopo no perché quei 25 li tiri fuori dall'altra parte cioè qui il punto è non è la cessione di Blaovic qui il punto è l'acquisizione di Lukaku che non funziona io sulla cessione di Blaovic non non metto becco perché so che quello può essere un tema di carattere economico e personalmente lo accetterei serenamente perché guardando i numeri ci sta il punto è sbagliato cioè non non capisco l'acquisizione di Lukaku il problema è solo questo è soltanto questo allora io adesso faccio vedere una grafica ok Davide riparto proprio da te molto molto schematicamente abbiamo l'abbiamo ipotizzata con cifre tonde e con una forbice di 40 milioni che che devo dire al momento non è agli atti che il Chelsea riconosca questi 40 di differenza tra la cessione di Blaovic ipotizzata in questa grafica 70 milioni e l'acquisizione di Lukaku ipotizzata questa grafica 30 però diciamo c'è una forbice di 40 con una plusvalenza di Blaovic fossero 30 e 70 di 14 fossero 40 e 80 stessa forbice ovviamente la plusvalenza diventerebbe 24 attenzione perché poi però l'effettivo costo di Blaovic sì è stato 84 inclusi bonus sì quindi il conteggio è giusto prego Davide qui arriviamo al discorso del costo annuo sì che l'impatto di lancio nell'anno prossimo sì allora tolta la plusvalenza che è un qualcosa che si vede nella top line dei ricavi di una società calcistica alla voce alla voce proventi gestione calciatori sono le plusvalenze il paragone tu lo fai paragonando l'ammortamento del cartellino del calciatore più l'ingaggio lordo quello di Blaovic è non ha decreto crescita quello di Lukaku qui è ipotizzato con decreto crescita come si vede la cessione di Blaovic diciamo a partire dall'anno 2 cioè depurato dall'effetto della plusvalenza permetterebbe un risparmio di 9,4 milioni di euro all'anno tra ammortamento e ingaggio siccome poi magari lo vedremo dopo i numeri di Juve sono gli ordini di grandezza sono un po diversi tra l'altro immettendo un giocatore come Lukaku che poi non ha più un'alta probabilità di essere ceduto successivamente con l'idea di plusvalenza un ulteriore magari plusvalenza e un ulteriore ma non è necessariamente la plusvalenza il tema su Lukaku sarebbe più che altro alleggerersi del cartellino un po diciamo se vogliamo come Scesni o Bonucci che sono un po i casi che in queste ultime settimane però se ci devi lasciare dei soldi scusami però Higuain esce in minusvalenza Ronaldo esce in minusvalenza abbiamo sicuramente lasciato dei soldini anche per andare a risolvere con alcuni giocatori che negli anni poi sono usciti dalla Juventus da Chedira a Ramsey a quell'altro a quell'altro ancora quindi chiedo c'è chiedo e dico pensare che magari puoi non perderci ancora qualcosa nel momento della separazione non è facile detto questo in questo momento c'è il mercato arabo c'è il mercato americano chissà magari poi magari poi fa anche una plusvalenza però diciamo non è un futuribile ecco no no ecco però qui la differenza è che nell'annualità Vlaovic per risparmi 31 e mezzo risparmio anno l'ultimo dato che leggete della colonna di Dusan e il costo anno di Lukaku nel caso di ingaggio netto a 9 milioni acquisizione un controvalore di 30 è di 22 quindi c'è guadagnato davide sì a livello contabile questi 9 milioni un ragioniere ti direbbe di sì se andando a guardare quel numero 93 2000 sì ci guadagni ma secondo me in realtà ci perdi perché poi la domanda che mi faccio è ma per forza noi per cedere a 70 milioni Vlaovic dobbiamo prenderci a 30 Lukaku non esiste un club in giro per l'Europa è disposto a darci 70 milioni per Vlaovic cash pagamento in 3 4 rate e questa è la mia domanda allora siccome a questa domanda io personalmente mi sentirei di rispondere di no cioè che esiste un club in grado di darci di darci almeno 70 milioni per Vlaovic il problema qui è capire il perché ci si è fissati su Lukaku e questo io non capisco insisti su questa cosa ma tu c'è io la mia posizione cioè non che ti ha fatto Lukaku non è che cosa mi ha fatto Lukaku perché se tu mi dicessi che prendiamo Lukaku in prestito con l'ingaggio pagato dal Chelsea al 50 per cento per un giocatore fuori rosa che in arabia non vuole andare che non ha altre offerte da nessuno se non quella ipoteticamente nostra io non capisco perché devo dare 40 milioni valutazione Chelsea a un giocatore che di fatto dico lo stesso discorso di due settimane fa non ha offerte è proprio secondo me è basilare nella negoziazione quindi ragioneresti in maniera diversa se invece Lukaku fosse Harry Kane stesse cifre ma anche Lewandowski certo completamente diverso quindi ho pregiudizio anche verso il calciatore Lukaku certo ma credo che anche Lorenzo se al posto di Lukaku con quei numeri ma anche con numeri peggiori lato nostro ci fosse scritto Harry Kane o Robert Lewandowski credo che anche Lorenzo tra l'altro Lewandowski più vecchio Harry Kane è più o meno la stessa età di Lukaku che lui credo sia 93 è coetaneo quindi voglio dire credo che la reazione di Lorenzo sarebbe lo porto io Vlaovic in spalla cioè prendo l'aereo vado vado a Torino e poi lo porto però queste sono però queste sono già un terreno più soggettivo quindi stai dicendo Davide che i numeri non sono ottimali ma non è che ti tradiscono se Lukaku facesse 25 gol all'anno per tre anni vanno benissimo se se dici che per Kane vanno bene per Lukaku no vuol dire che saranno le prestazioni di Lukaku a dirti che l'operazione è buona o non è buona ma siccome noi ragioniamo Luca sullo storico le prestazioni di Lukaku degli ultimi tre anni rispetto alle prestazioni di Lewandowski degli ultimi tre anni di Kane degli ultimi tre anni direi che è quantomeno netto se non impietoso il paragone Lorenzo considerazioni ulteriori ti faccio rivedere la grafica ovviamente l'ipotesi non farmela vedere più per favore perché ti fa star male no allora prima di andare ai numeri io faccio un ragionamento anche di pancia come sai io insomma cerco sempre di tenere i ragionamenti di pancia un po da parte però poi alla fine il tifo è anche questo quindi qualche volta bisogna pure scivolare noi abbiamo in mente soprattutto l'ultimo Lukaku cioè io sulla carriera di Lukaku finora sul valore di Lukaku io non ho un pregiudizio io ho un giudizio ed è quello di un calciatore che si è espresso fino a un certo punto con alcune discontinuità con alcune caratteristiche caratteriali con alcuni punti di forza che sono anche innegabili è perché insomma eh il Lukaku in forma ha lanciato in velocità ragazzi questo è uno che è praticamente un giocatore di football americano su su alcune cose fa la boa come pochi però noi abbiamo in mente un interista fondamentalmente un interista che per l'ennesima volta in una partita definitiva anzi in una finale ha fatto delle cose goffe a dir poco e noi ci dobbiamo prendere questo qui al posto del nostro ventiduenne ventitreenne che l'anno scorso è arrivato si è preso la maglia sette doveva risolvere la vita da un punto di vista di morale non è che sia il massimo un'operazione del genere fatta in un altro momento però però Lorenzo sai che alcune operazioni si fanno senza cuore in mano e funzionano no? È già successo nella storia anche della Juventus devo dire non tantissime però alcune cose si fanno senza cuore se pensi che siano la cosa giusta al momento giusto il cuore non c'è ci può non essere Luca come sai io ho perdonato molto all'ultimo all'ultimo Agnelli e ho voluto vedere una logica anche in tante cose che ha fatto Massimiliano Allegri che ha provato a fare Massimiliano Allegri in questi due anni contro qualsiasi tipo di critica io ho voluto vederci una logica va bene ora onestamente questa è una cosa che fatico a vedere come un'operazione logica ci sarà una logica la conosce la Juventus la conosce Giuntoli ecco io spero che questa logica la conosca Cristiano Giuntoli perché tu allora dando per scontato che ce l'abbia molto chiara Allegri la logica e qua siamo un d'accordo tu dici io sono più tranquillo a sapere che Cristiano Giuntoli è un grande sponsor di questa operazione perché ci crede anche lui è questo che stai dicendo saprà qualcosa che noi non sappiamo ci sarà un qualcosa che va oltre la semplice io non sto difendendo niente nessuno faccio un po' l'avvocato del diavolo solo ragazzi se noi iniziamo a dire tutti quanti mamma mia che società schifosa adesso tutti quanti no 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 non facciamo questo però è chiaro che c'è bisogno di un contraddittore interno e quindi dunque purtroppo purtroppo io nell'operazione in sé non ci vedo nemmeno questo grande guadagno economico e calcistico calcistico nemmeno a patto che comunque vlaovic vlaovic se resta come stato l'ultimo anno è un problema eh è un problema dal punto di vista fisico un problema dal punto di vista della testa è un problema dal punto di vista però ragazzi lukaku ha delle debolezze che insomma conosciamo abbastanza bene quindi prendiamo dei punti di forza ma prendiamo un calciatore che ha anche dei punti deboli notevoli notevoli guardate uno dei punti deboli apparentemente più 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 evidenti eh è il fatto che lui quando gli gira per la testa che in un posto non sta più bene non riesce esprimersi lui si estranea da quel mondo al Chelsea l'ha fatto dopo due mesi al United l'ha fatto dopo un anno un anno era già saturo stufo e all'Inter abbiamo scoperto l'abbiamo scoperto negli ultimi mesi no che a un certo punto non era più più il posto dove lui si sentiva a sua acima questa cosa gli può scattare dopo due settimane dopo un anno dopo sei mesi mai e quindi da questo punto di vista sicuramente non è un profilo totalmente affidabile però questo è un aspetto diciamo anche più difficile da scrutare devo dire che lo storico ci dice questo Luca però poi concludo una volta fatta se Lukaku arriva poi è chiaro che bisogna augurarsi che Allegri mi entri nella testa che Lukaku riconosca Allegri come nel suo vate come ha fatto con Conte e quindi si si leghi all'ambiente e che Lukaku si metta nelle condizioni mentali e fisiche di segnare un bel po' di gol è chiaro che come dici tu c'è questo se è chiaro che se Lukaku si sente coinvolto in un progetto cioè noi tutti quanti ci dobbiamo ricordare che Lukaku è uno degli attaccanti preferiti di Antonio Conte perché se no al solito cadiamo nel problema di personalizzare tutto sul fatto che c'è Allegri in panchina no certo ma infatti l'abbiamo nominato una volta sola Conte l'ha voluto ovunque Lukaku perché perché Conte riesce a fare su Lukaku un lavoro per cui Lukaku poi ad un certo punto diventa un'altra cosa diventa un'altra cosa fino alla finale contro il Siviglia però perché noi ci dobbiamo ricordare che la finale contro il Siviglia però una partita eh sì e poi Lorenzo tu tu hai detto una cosa molto giusta scusami se ti interrompo ragazza per un'altra importante vi raggiungo a minuti finito vai Davide tu hai detto una cosa molto importante cioè il lavoro che ha fatto Conte ecco il punto è che Lukaku non è un giocatore anche che fisicamente è semplice da mettere in moto cioè è un se lo metti in moto nella maniera corretta poi diventa un carro armato che ara il campo e che di fatto fa sportellate contro due tre difensori da solo cioè ti fa letteralmente reparto da solo il problema di Lukaku è che se non lo metti in moto e questo è accaduto nel corso dell'ultimo anno all'Inter con Inzaghi diventa un giocatore complicato da gestire perché metti in panchina e si lamenta gioca male inizia a scadere di fiducia come diceva Luca non è un giocatore che caratterialmente è un tranquillo ma ovviamente è abituato a essere un protagonista quindi a me preoccupa anche l'aspetto fisico ma non nel senso che Lukaku è un giocatore fisicamente finito sebbene negli ultimi anni gli infortuni ne abbia avuti ma che è un giocatore complicato da mettere in moto cioè non è un giocatore che fa la preparazione che le prime partite di campionato è già 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 in pieno cioè ha già la birra in corpo è un giocatore che impiega del tempo a entrare in forma e se tu questo tempo lo allunghi lo allunghi lo allunghi poi entri nel circolo vizioso per cui il giocatore anche quando più o meno in forma attacca ma cioè non riesce mai ad esprimersi compiutamente per cui ti assume un rischio tra l'altro di un giocatore che ha 30 anni non ne ha più 20 24 25 ne ha 30 questo mi preoccupa io Davide diciamo come chiave di lettura come chiave di lettura alternativa mettiamola così chiave di lettura complottistica va bene io sono tutto forché un complottista chiave di lettura alternativa se è vero che Vlachovic non sta avendo quel mercato che noi pensavamo che avesse è probabile che si stiano rendendo conto di questo anche lo stesso Vlachovic e il suo entourage secondo me io voglio leggerci voglio leggerci un tentativo da parte di giuntoli di fare una specie di reality check a Vlachovic e al suo entourage di dove Vlachovic è finito in senso positivo ed è fatto che poi in realtà lui non può essere scontento alla Juventus perché lui è finito lì in una stagione disgraziata e però avrebbe avuto offerte da ovunque sta rinunciando a una grande carriera in premio io penso che l'apertura al mercato in uscita di Vlachovic possa essere utilizzata al netto del fatto che poi non arrivino grandi offerte per dimostrare la disponibilità per far vedere a Vlachovic che non è prigioniero della Juventus né di Allegri ma anche allo stesso tempo per dirgli ciccio non è che siano arrivate tutte queste offerte quindi ora tu se vuoi andare via magari l'anno prossimo ragioniamo un po' su che cosa devi fare per migliorare per stare meglio fisicamente poi ne riparliamo io ti avrei anche venduto ma mi hanno offerto al massimo 30 milioni più Lukaku quindi cioè voglio sperare che ci sia anche questo tipo di chiave di lettura di lasciare una porta aperta far circolare qualche voce ma allo stesso tempo dimostrare all'entourage di un calciatore che magari è scontento e questa è una sarebbe una mossa da grande dirigente certo sono d'accordo no no se il ragionamento fosse questo il tuo ragionamento non fa una grinza nel senso che Vlachovic anzi sarebbe secondo me dovrebbe essere stimolato dal dire diamoci un anno tra un anno se io rendo la squadra va e arriva l'offerta da 90 100 110 per un giocatore che magari ti permette di fare una grande stagione arriva a fare 20 gol in serie A e Vlachovic ce li ha nelle gambe 20 gol in serie A tra l'altro su un campionato di 38 partite senza la Champions quindi quasi giocando una volta a settimana allora poi è chiaro che ci si separa anche serenamente nel senso che il giocatore prende la sua strada e la Juve fa quel tipo di gestione che però permette un po' come è stato Tonali per il Milan cioè di poi prendere l'incassato e di investirlo in su giocatori che di valore minore che però ti permettono no di ricostruire un pochino la tua idea di squadra io forse l'unica cosa su cui sarei un po' più tranquillo su Lukaku e se ci fosse un Allegri in sella per più tempo alla Juve cioè siccome gli mancano due anni e quest'anno per lui è un po' l'anno del o la va o la spacca non vorrei che giustamente la sua logica potrebbe essere quella di dire dato i miei giocatori che voglio perché così ho il team che mi permette di puntare a vincere poi se vinco tutti contenti se perdo amen io non vorrei che perché qui non è un progetto di cinque anni sull'allenatore cioè Allegri non è arrivato ieri ha firmato un quinquennale e iniziato un percorso in cui è giusto che l'allenatore abbia molta voce in capitolo Luca ci ricordava che il primo sponsor di Vlaovic alla Juve fu Allegri ora dopo un anno e mezzo il dire che Vlaovic non va più bene può essere per il giocatore ma io qualche dubbio inizio anche a formelo sulla valutazione che è stata fatta dall'allenatore io sono d'accordo su questo ora prima di scatenare un qualsiasi tipo di dibattito furioso dire che Allegri non ha un diciamo un contratto lungo di lungo periodo è chiaro che ha avuto un contratto di quattro anni ha iniziato due anni fa e la cosa più preoccupante probabilmente è proprio il fatto che questo ragionamento è quello che probabilmente hanno fatto lo scorso anno cioè è il mercato dello scorso anno che probabilmente era quello che dicevamo Allegri vuole l'instant team vuole prendere di Maria perché vuole un calciatore pronto riprendiamo Pogba perché lo conosce ma sappiamo che prendiamo Paredes eh prendiamo Paredes ce lo siamo scordati quindi io io non penso che il ragionamento su uno scambio del genere sia legato al fatto che diciamo Lukaku è più pronto di Vlakovic anche perché questo io ne sono assolutamente convinto quella spesa a gennaio di un anno e mezzo fa eh non di dieci anni fa per prendere Vlakovic è chiaro che c'è stata una forte pressione da parte di Allegri per prenderla Cristiano era andato via all'ultimo giorno di mercato serviva un centravanti non è che hai preso un centravanti non abbiamo preso Anel K ecco a gennaio abbiamo preso il più forte attaccante la serie A di ventidue anni dando un sacco di soldi alla Fiorentina quindi io penso diciamo se dobbiamo eh lanciare un tema anche per quando torna Luca e penso che oggi il tuo ragionamento sarà su questo io devo ancora capire quanto ed è stato detto eh quindi mi viene da pensare che ci sia questo vincolo quanto il mercato di quest'anno segua principalmente una logica di conti e quindi i conti vengono prima il campo viene dopo si cerca di fare il meglio possibile ma mettendo alcuni paletti e quanto invece la visione tecnica che può avere giuntoli che può avere l'allenatore diano una serie di linee guida e poi stando nel recinto di alcuni parametri finanziari si vada dietro ad un'idea tecnica ora lo scambio Lukaku Vlaovic è una questione tecnica è un'opportunità oppure va dietro ad un qualche tipo di logica economica che noi non capiamo fino in fondo visto che il risparmio non è così alto e la plusvalenza non è così alta e cioè questa è la domanda che mi faccio io e non è sull'operazione singola il problema è che ad ora il mercato del evento se lo valutiamo tutto male perché è stato abbastanza fermo sia in uscita sia in entrata ma guarda io io penso che sia possibile però io il ragionamento lo faccio solo sulla carta quindi non non sono io a guidare il mercato o a fare le strategie sia possibile fare un buon mercato nonostante la situazione non sia semplice da un punto di vista economico finanziario io di questo ne sono convinto con Luca siamo sempre stati concordi nel dire che sarà un anno complicato perché comunque noi avevamo due strade davanti quella di cedere bene oppure di fare la svendita stile saldi ultimo giorno tutto fuori all'80% di sconto che non è quello che serve all'aiuto perché comunque i giocatori sono degli asset che le società devono valorizzare altrimenti anche il messaggio all'esterno diventa quello di una società che dopo un anno non crede più al giocatore lo svende cioè diventa brutto anche il messaggio che tu lancia all'esterno cioè se non funzioni stai tranquillo che poi arriva il discount e non va bene quindi io sono d'accordo sul fatto che giuntoli tenga duro su certe trattative e che finché non si raggiunge la cifra minima stabilita quel giocatore non debba andare a costo di tenerlo perché lancia un segnale al mercato la teoria della segnalazione un segnale al mercato un certo tipo di atteggiamento e quindi tutte le persone capiscono tutti coloro tutti gli attori gli operatori che lo capiscono sanno che se verranno da te troveranno un negoziatore di un certo tipo e non uno che dopo la terza volta cede su tutta la linea però io l'operazione a lucacco da un punto di vista economico limite mio sicuramente io non riesco a spiegarlo cioè non ha una razionalità economica secondo me a queste condizioni non ce l'ha se poi scopro che lo comprano ripeto a 4 milioni ce la posso trovare ma comprarlo a 40 con valutandolo 40 milioni fosse anche 30 milioni ma io non credo che a quel punto se fanno l'operazione a specchio si daranno le valutazioni che servono come spesso si fa io non la capisco è un limite mio è Lorenzo ma io proprio non non riesco a capirla e troppe volte già ne abbiamo visto che la juve questa operazione le ha fa un po' strano fa un po' strano come operazione in mano a giuntoli poi come operazione della vendita del pezzo più grosso e più pregiato del mercato in uscita che sarebbe a questo punto Vlauric perché io spero che la questione su chiesa ad esempio sia definitivamente usa per quest'anno però che il pezzo più pregiato esca in questo modo e giuntoli come attaccante in entrata prenda quel tipo di profilo a questo tipo di condizioni economiche devo dire che sarebbe sarebbe sorprendente perché invece io quello che mi aspetto che mi aspetterei da giuntoli e che facesse quadrare i conti riuscisse a vendere qualcuno bene se c'è la possibilità di venderlo bene ma che rimpiazzo sia un nome nuovo un nome a cui non siamo nemmeno preparati e che economicamente sia un nome vantaggioso e quindi questo sia la prima il primo grande pregio di un acquisto insomma Osimeno non è che è costato tre soldi sappiamo Napoli ha dovuto dare via dei grandi profili anche per andare a prendere Osimeno quindi però ecco diciamo Osimeno non è costato esattamente tre soldi però non è nemmeno costato quanto correggimi se sbaglio le cifre per prendere Osimeno a Napoli sono superiori o inferiori rispetto a quelle per cui si prenderebbe Lukaku in questo momento allora la valutazione complessiva è stata superiore se non sbaglio o comunque in linea ovviamente due giovani che erano stati i tre perché poi c'era anche carnezis se non sbaglio erano due giovani più carnezis e che andavano per Osimeno erano stati generosamente valutati uso un eufemismo per far sì che il Napoli riducesse la montare di cash dovuto a Lille per prendere Osimeno ora io l'unica diciamo l'unica motivazione che mi do che mi voglio dare affinché quest'operazione venga fatta e abbia un senso è quella di dire e l'aveva detta no non l'aveva l'avevo pensata io era stata di Giuntoli che dice io ti do questo però poi su tutto il resto faccio come voglio e tu non metti becco su nulla per cui io ti vendo scesni vendo tizio vendo caglio la smonto però chiaramente se ci fossero sei cinque sei trattative già impostate su questo lo potrei anche capire per come siamo onestamente io come dire non non la farei ho sempre avuto questa linea ma non la cambio non riesco a cambiarla io figurati che avevo pensato da diciamo sempre nella teoria del complottismo spinto che la manovra Lukaku Juve fosse semplicemente dettata dal dover evitare che l'Inter prendesse Lukaku infatti l'Inter ha sistemato tutto il centrocampo adesso probabilmente prende Samarzic però ha la porta sguarnita non ha un portiere terzo di fatto in attacco sono rimasti in due Turam e Lautaro con Correa a fare da terzo ma gli manca l'attaccante si stanno dividendo tra chi vuole Morata che adesso leggo Scamacca ma anche il profilo di Scamacca mi sembra come dire un altro profilo valutato 30 35 milioni oggettivamente per Scamacca che non viene da una stagione proprio eccezionale a West Ham io eviterei di innamorarmi di questi profili nome che è stato accostato alla Juve molteplici volte quindi io onestamente anche io vorrei un colpo alla Facundo Gonzales cioè uno di questi giocatori di grande prospettiva poi Facundo Gonzales per carità magari andrà in prestito magari fare il quinto nella difesa della Juve però è un nome un 2003 che ci puoi ci puoi costruire ora capisco sull'attaccante però di nomi in attacco ce ne sono tanti che si possono prendere e poi non dimentichiamoci che il valser degli attancanti non è ancora partito cioè anche il fatto di aspettare che si muova un Bappé o Kane per poi fare in modo che tutto si metta in movimento poi vedrai che se trovi qualcuno che ha bisogno del nome diciamo un po' affermato anche su certi livelli viene a darti 80 milioni per Vlaovic il 15 di agosto quello che tu devi aver fatto è esserti più o meno coperto avendo in mano l'accordo per per un altro attaccante ecco quindi su questo sono mi hai anticipato poi diciamo anche alla community che Luca è impegnato in questa telefonata che a questo punto ci insospettisce arriva un Bappé arriva un Bappé noi non non abbiamo non vediamo la la chat qui quindi ci dispiace non poter rispondere in diretta però diciamo a questo punto aspettiamo Luca e continuiamo a tenere la la trasmissione attiva però ecco quello che penso è che per come si sta mettendo il mercato quest'anno il mercato degli attaccanti se ci fosse il famoso effetto domino se qualche pezzo grosso partisse da una delle big d'Europa con la rabbia nel mezzo che è diventata una cosa che entra e spariglia le carte sarà un mercato a rialzo cioè in questo momento le cifre di uno scambio del genere sono queste tra due settimane se si muovesse un pezzo pregiato e se si muovesse alle cifre che immaginiamo perché se si muove in Bappé le cifre ce le possiamo immaginare quali sono lì poi secondo me tutto il mercato degli attaccanti per le sostituzioni diventa molto più caro diventa molto più caro e alcune occasioni rischiano di diventare diciamo dipende da che lato stai e poi può essere posizionato bene se il mercato in uscita poi diventa una grande fame di attaccanti e quindi la gente è disposta a darti di più può essere una situazione per cui vieni saccheggiato tra virgolette per cui una squadra cioè la valutazione di scamacca per dire la valutazione di scamacca sì io sarei d'accordo con te con il criterio di un paio di anni fa di dire ma questi soldi per scamacca sì ma caliamo sì nel mercato dell'oggi perché secondo me se qualcuno volesse scamacca dal mercato arabo ma potrebbe offrire 50 ma certo ma loro lo droga quest'anno cioè giovane attaccante italiano che viene dalla premier viene da 50 sì sì quindi ma no ma ci sta come come ragionamento infatti il mio punto è quello di dover andare a pescare in mercati che possano essere un po' alternativi perché poi di giocatori il mondo ne è pieno c'è chi dice che non possiamo permetterci di arrivare al 31 agosto con un giovane che non può sbagliare io mi permetto diciamo di dire che comunque per la serie a che non è un campionato purtroppo così sfidante come lo era 20 30 anni fa partire con miliche ken e chiesa davanti secondo me non è proprio un attacco scarso per la serie a considerando che fanno 38 partite milic comunque un giocatore che se è in condizione fisica buona calcio lo sa fare è un giocatore che ha avuto due infortuni che gli hanno letteralmente spazzato via la carriera milic io lo ricordo quando era arrivato a napoli e aveva fatto otto gol nelle prime 5 6 5 6 partite era un ira di dio sotto porta per cui io onestamente proprio perché quest'anno non abbiamo le coppe forse questo è l'anno giusto per poter effettuare quell'acquisizione che ti permetta di inserire in organico quel giocatore che ha i sei mesi di apprendistato per poi spiccare il volo cioè io questa logica del dover per forza tirare dentro il grande bomber premesso che noi di grandi bomber non ce ne possiamo permettere non ha senso ma che è whisky whisky alle 5 di mattina che eroe che grande è whiskone quello no questa è sono geloso di di monblano celentano quindi devo fare delle pause con l'acqua grazie a tutti